Cari musicofili, bentornati a una puntata di Ti Consiglio un Disco. Una parentesi veloce per dirvi chi ci sta seguendo, chi sta seguendo, insomma la seconda stagione già se ne sarà accorto, che abbiamo iniziato con delle dirette web in cui io e Thomas Colasanti, e a volte degli ospiti, vi presentiamo artisti, dischi, facciamo sentire qualche canzone, a volte suoniamo qualche canzone. Queste dirette si sono tenute per ora il venerdì alle ore 13, in pausa pranzo, e restate collegati con Musicof ovviamente per scoprire quali saranno i prossimi appuntamenti e dedicati a quali artisti e quali dischi. Veniamo quindi al disco di oggi, lo vedete qui accanto a me, io sono sicuro che molti di voi lo avranno già riconosciuto, è un duo, il duo più famoso del folk rock americano, sono loro, sono Simon e Garfunkel, e questo è il loro disco live, il concerto in Central Park. Questo concerto viene tenuto il 19 settembre 1981, mentre il disco uscirà l'anno successivo, nel febbraio dell'82. Chi è stato a New York sa benissimo che Central Park non è solo un parco cittadino, ma è veramente una sorta di città dentro la città, una città ovviamente verde, naturale, è un vero e proprio bosco, barra lago, barra parco giochi, barra qualsiasi cosa, è veramente enorme. E proprio questo suo essere enorme lo portò nei primi anni Ottanta ad essere maltenuto, aveva delle forti carenze e i fondi stanziati non erano mai abbastanza. Ricordiamo che parliamo di una New York che all'epoca, si veniva dagli anni Settanta, non era la New York sicura, come riqualificata che conosciamo oggi, ma era una New York abbastanza sporca, abbastanza pericolosa, per cui non venivano mai fatti abbastanza lavori di qualche che fossero necessari. Così alcune istituzioni, alcune associazioni decidono di organizzare un grande concerto per una grande raccolta di fondi. Il concerto è gratuito, ma ovviamente parallelamente c'è questa raccolta che doveva servire appunto a raccogliere i soldi per riqualificare il parco, per restaurare, insomma per prendersi un po' cura di quello che poi è uno dei simboli principali della Grande Mela. Per questa occasione vengono contattati Simon e Garfunkel, che però era da tanto tempo che questo duo non stava più insieme, non suonava più insieme. Vediamo, arriviamoci, arriviamoci per gradi. Intanto chi sono Simon e Garfunkel? Allora, ovviamente, i protagonisti di questo disco, oltre alla grande band che suona con loro sul palco, sono loro due, Paul Simon e Art Garfunkel. Paul Simon è un simbolo della cultura americana a 360 gradi, in particolare ovviamente della cultura musicale americana. È un genio della musica, è uno che ha scritto alcune tra le più belle canzoni, non solo per se stesso o per il duo, ma anche per altri artisti. Alcune delle più belle canzoni, insomma, mai scritte in tutta la storia della musica Made in USA. Ed è, come Art Garfunkel, un newyorkese doc. Uno dei motivi per cui vengono scelti è perché entrambi nascono e vivono nel Queens, questo quartiere famosissimo, insomma, chiunque ha visto qualche film ambientato a New York sa benissimo di cosa stiamo parlando. Entrambi frequentano la stessa scuola elementare, si conoscono da piccoli, quindi stiamo parlando non solo di due artisti che collaborano insieme, ma di due grandi amici e come tutti gli amici, insomma, ne passeranno delle belle tra amore e litigi, molti litigi. Art Garfunkel, con questo nome molto complicato, lo è perché nasce in una famiglia mista ebrea-rumena, quindi pensate un po' che commistione, insomma, di culture, di tradizioni che poteva portarsi dietro. E nasce e cresce come un ragazzino dotato di questa voce angelica, quindi una voce bianca che poi si, insomma, cresce e si evolve, ma resta sempre con questo velluto, con questa capacità di arrivare a note anche molto alte, ma sempre accarezzando, quasi come un flauto dolce, un suono, diciamo, molto vellutato. Come vi dicevo, si conoscono alle elementari e formano questo duo che si chiama, ironicamente, insomma, Tom e Jerry. Tra l'altro, questo duo continuerà, insomma, nel tempo, prima di essere Simon & Garfunkel, nei primi anni 60, ma continueranno, insomma, ad alimentare la produzione musicale del duo. Questi Tom e Jerry cosa facevano? Facevano semplicemente delle cover all'inizio o comunque si ispiravano moltissimo agli Everly Brothers. Gli Everly Brothers erano questo duo molto famoso negli anni 50 in America, ma era un duo da cui loro hanno preso tantissimo, perché erano due fratelli che, con le loro voci, si armonizzavano a vicenda continuamente, che poi è quello che fanno anche Simon & Garfunkel in tutte le loro canzoni. La loro vita va avanti, crescono, frequentano entrambi le università, uno la Columbia, uno l'Università del Queens, Paul Simon si specializza in letteratura, Garfunkel inizia a studiare architettura, poi invece si specializzerà in storia dell'arte. Però, insomma, il desiderio di coltivare la passione musicale non si addormenta mai. Paul Simon, tra l'altro, a cavallo della fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60, produce molta musica, scrive molti brani, alcuni addirittura entrano nei primi 100 posti della classifica Billboard, ovviamente sono brani che vengono anche, vengono catati da altri artisti, però, insomma, il suo genio musicale si stava già espandendo. Nel 1963, questi due grandissimi artisti si rimettono insieme in un duo, però questa volta escono con i loro nomi, Simon & Garfunkel. Esce così il loro primo album per la Columbia Records, che si intitola Wednesday Morning 3 AM, ma purtroppo non ha grande successo. È un album molto acustico, estremamente rigido sui dettami del folk dell'epoca, e contiene già quella The Sound of Silence, che poi è il loro brano probabilmente più famoso. Purtroppo, quindi, questo disco non va bene e loro si separano. C'è una eminenza grigia dietro che però sta manovrando. Prima di parlare di questa eminenza grigia, voglio anche mettere dentro una curiosità. Vi dicevo che Paul Simon aveva, appunto, era già stato prolifico per quanto riguarda la creazione di canzoni, e pensate, un po' agiva attraverso degli pseudonimi, addirittura presi da, che so, Paul Kane, come il protagonista di Quarto Potere, di Orson Welles, o altri nomi. E poi, intanto, aveva fondato un duo, niente di meno che con Carole King. Carole King, che è un'altra delle grandissimi autrici di musica folk, e non solo, anche soul, poi vediamo a seconda, insomma, di chi ha cantato i suoi brani, anche Rita Franklin, no? E la stessa Carole King, perché poi, ricordiamo, questi erano tutti artisti che spesso iniziavano la loro carriera come autori, e poi diventavano loro stessi artisti dei propri brani. Quindi forma addirittura con Carole King, un duo, che si chiamano The Cosines, noi cugini, non lo so pronunciando male, è proprio I Coseni, un nome un po' così. Però, insomma, in realtà il duo non pubblica niente, quindi non abbiamo testimonianze sul disco di questa musica, però, fortunatamente, abbiamo tante testimonianze di entrambi, poi, della loro grande carriera musicale. Veniamo all'eminenza grigia, lo so che lo volete sapere. Questa eminenza grigia si chiama Tom Wilson, che è un produttore discografico. Tanto per citarne una, è colui che ha prodotto Lake Rolling Stone con Bob Dylan. Citiamo proprio una cosa a caso. Quindi siamo in un periodo in cui il folk rock sta anche cambiando, si sta elettrificando, anche proprio grazie a Bob Dylan, peraltro. Tom Wilson prende questa The Sound of Silence, fondamentalmente acustica, e sulle tracce della canzone inserisce degli strumenti elettrici, la fa uscire nuovamente come singolo, quindi è una canzone che poi è quella che conoscete un po' tutti, con la chitarra elettrica, la batteria, il basso, eccetera, ed è un successo incredibile. Arriva al primo posto della classifica Billboard. Cosa succede quindi? Ovviamente Simon e Garfunkel si rimettono insieme, si rimetteranno insieme per ben cinque album, fino al 70. Nel 70 si separeranno dopo aver dato alla luce uno dei capolavori, che è Bridge over Trouble Water, dove c'è l'omonima canzone, che poi è contenuta anche in quest'album, ovviamente, che è una delle più belle canzoni americane, belle canzoni mai scritte in realtà. Ed è la loro più grande hit, perché tra l'altro è la canzone che è stata più cantata, riarrangiata, coverizzata da altri artisti, molto più anche di canzoni di Elvis, o di grandi, grandi, grandi padri, insomma, della musica americana. Quindi capite bene il peso di questa cosa. Purtroppo nel 70 loro hanno continui litigi, non ce la fanno più a stare insieme, e si separano. Ecco quindi l'occasione della loro reunion, questo concert in Central Park veramente epico. Prima di passare a raccontarvi il disco, tra i protagonisti sappiate che nella band, una band veramente inutilità, ci sono tantissimi musicisti, di questo disco, c'è anche alla batteria quel grandissimo Steve Gadd, che era giovane, ma non è che fosse sconosciuto, perché insomma, negli anni 70, lui aveva fatto parte dei Return to Forever, di Chick Corea, era un batterista di quelli, insomma, rinomati. Steve Gadd comunque collabora moltissimo con Paul Simon, anche nella sua carriera solista. pensate che nel 1986, è lui il batterista di quel disco famosissimo, che è Graceland, che è un disco che tra l'altro fa, da apripista nel mercato mainstream della musica, della cosiddetta world music, e Paul Simon a portare questa esplosione di colori nella musica negli anni 80, che poi avrà un seguito enorme, ancora oggi lo ha, insomma. Praticamente questo disco è un gritty stiz, ci sono tutti i brani più famosi del duo, ci sono poi diversi brani della carriera solista di Paul Simon, che Argar Funker all'epoca, tra l'altro, insomma, dovette provare e riprovare, anche perché dovettero riarmonizzarli tutti, per poterli fare a due voci, e poi contiene delle cover. Una, per esempio, è proprio degli Averly Brothers, Wake Up Little Susie, e l'altra è Maybelline di Chuck Berry. Questo testimonia anche il grande amore per il rock'n'roll che sia Paul Simon che Garfunkel, ma soprattutto Simon, avevano sin da bambini. Nell'analisi dei brani, beh, è molto facile, io ve ne consiglio alcuni che sono in masterpiece da ascoltare, ma sono da ascoltare anche negli album stessi, per esempio, allora, il concerto parte con Mrs. Robinson. Chiunque abbia visto il laureato, il film con Dustin Hoffman, sicuramente conosce questa canzone. È una canzone ritmatissima, con un testo che, come spesso succede nelle canzoni, soprattutto di Paul Simon, racchiudono l'essere, la storia americana, quella, però, del popolare. È un po' quello che poi risentite in certi cantanti come Springsteen, eccetera, cioè quelli che si rivolgono direttamente alla gente. D'altronde era del Queens, Paul Simon, non era un alto locato, insomma, dei quartieri alti. Quindi si rivolge esattamente, poi lo vedremo anche con Sound of Silence, alla sua gente, alla gente dei quartieri. Dopo il secondo brano, che è Onward Bound, un brano bellissimo, c'è un famoso speech che tutti coloro che hanno il disco l'avranno ascoltato tantissime volte. C'è Paul Simon che parla al pubblico, inizia a ringraziare, insomma, il Police Department, i Vigili del Fuoco, e poi arriva a ringraziare anche Ed Coach, che era il sindaco di New York all'epoca. Ovviamente sale una marea di fischi quando lui lo nomina. Allora ha questa bella idea, se l'avete mai usato, di recuperare, insomma, poi infatti lo applaudiranno, dicendo che ringraziamo anche tutti gli spacciatori di spinelli, singoli, che ci sono qui nel parco, perché daranno metà del loro reddito, anche loro, insomma, in beneficenza per il mantenimento della città. Insomma, è questa cosa molto colorita, per cui poi riceve un grande applauso. Dopo questo grande applauso c'è una canzone che per me è un capolavoro. Se dovessi dire qual è la canzone più bella di Simon & Garfunkel, questa entra sicuramente tra le prime tre, nel mio gusto personale è sicuramente la prima, non perché sia oggettivamente più bella di altre, ma perché rappresenta quello che io ho consumato in quella cassetta che avevo, cioè quel pezzo di nastro che era veramente consumato. Questa canzone si chiama America Let us be lovers We'll marry our fortunes together I've got some real estate here in my bed È una canzone che si ispira a un viaggio che Paul Simon aveva fatto con la sua fidanzata all'epoca ed è una canzone in cui descrive questo appunto viaggio di due innamorati che vanno alla ricerca dell'America, dell'America quella idealizzata. e quindi c'è un racconto con tutte quelle piccole speranze giovanili e anche quelle cose che sono un po' nell'immaginario collettivo, anche la spia, no? Anche la gente segreta, insomma, un po' tutto quello che rappresenta l'America nell'immaginario, ma è anche nel cuore di Paul Simon, sicuramente. Poi, come non citare Scarabock Fair, che è un nome impronunciabile, lo so, che si rifà a un canto di stile molto medievale, di tradizione inglese. E questo è probabilmente la più grande prova della loro armonizzazione vocale, con Argar Funkel che fa veramente delle pennellate incredibili, ma con queste voci che si incrociano in questa canzone che ripete praticamente la stessa struttura, strofa dopo strofa, però le voci si incrociano sempre in maniera diversa. Ed è una canzone stupenda da ascoltare ad occhi chiusi e farsi trasportare in un tempo che fu, certamente non quello degli anni 60 americani, però sicuramente affascinante. E poi c'è The Boxer, un'altra canzone di incredibile bellezza, in cui c'è questo ritornello lalalai, 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 lalalai. L zalala, questo lailalai, lai, è scritto lie, come bugie, insomma. All'inizio fu attribuito come un'attacco a Bob Dylan, perché diciamo l'interpretazione è quella che avessero voluto esprimere contro Bob Dylan insomma delle critiche rispetto alla chiarezza alla veridicità delle sue intenzioni musicali. In realtà Paul Simon ha sempre detto che si riferiva a questa canzone era molto autobiografica e si riferiva al passato in cui lui era stato molto criticato a 360 gradi ovviamente critiche musicali anche poi non si sa comunque questo rararai poi si pare che in realtà sia venuto fuori da semplicemente ad appunto che Paul Simon mise sul testo mentre lo scriveva perché aveva finito le parole e non sapeva che metterci una sorta di segnaposto sul tavolo ci mise questo rararai per dire vabbè poi qualcosa ci verrà e poi invece è stata talmente carina questa idea che è stata mantenuta in questa canzone che è meravigliosa soprattutto quando poi inizieranno i colpi di cassa lo sentirete lo sentirete nel disco e poi arriviamo ai due grandi capolavori cioè della discografia in generale di Simon & Garfunkel allora uno è Bridge Over Trouble Water che è appunto omonimo di quel disco che chiuse la loro carriera però al di là di questo è una canzone sublime ecco io la definirei sublime perché è di una bellezza che io la metterei tra le dieci canzoni che se uno dovesse fare un disco della storia della musica americana e folk dovrebbe inserire questa canzone di una bellezza straordinaria e poi ragazzi e poi c'è l'altra che probabilmente sarebbe un'altra traccia da inserire nello stesso disco che è The Sound of Silence di cui abbiamo già parlato prima che ha questo testo meraviglioso meraviglioso che si conclude con quella bellissima frase che le parole dei profeti sono scritte sui muri della metropolitana e nelle case popolari e sussurrati nel suono del silenzio è una cosa che guarda sto avendo un brivido adesso che la dico è pura 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 poesia è una di quelle canzoni che potete anche non ascoltare la musica prendere il testo leggervelo e vi metterà lo stesso brivido di quando ascoltate la musica ed è qui eseguita in una bellissima versione acustica a due voci originale insomma come nella loro intenzione doveva essere la copertina ragazzi la copertina non è che ci sia granché da dire ma in realtà nella sua semplicità cioè questa inquadratura dei due cantanti è diventata una copertina iconica iconica tutti la conoscono anche chi non ha ascoltato il disco oltretutto qui potete vedere in copertina un Simon un Paul Simon molto sorridente un Hargarn Hargarn molto concentrato quasi un po' teso anche perché Hargarn disse che non era neanche troppo soddisfatto della sua performance assolutamente no la sua performance è fantastica in questo disco però insomma aveva un po' più di remore e oltretutto le prove di questo disco che vennero fatte per tre giorni in un teatro a New York furono prove difficili perché non solo i due litigarono molto spesso però come vi dicevo insomma dovettero anche riarrangiare tantissimi brani della carriera solista di Paul Simon per essere cantati in due quindi insomma è abbastanza teso forse un po' si vede negli occhi mentre invece Paul Simon qui è molto sorridente la copertina insomma come vi ho detto è iconica poi vi faccio vedere al suo interno il colpo d'occhio delle 500 anzi più di 500.000 persone che arrivarono davanti al loro palco ragazzi più di 500.000 persone vi ricordo che stavo parlando del 1981 chiaro concerto gratuito nessuno lo mette in dubbio però insomma questo vi fa ben capire l'amore che soprattutto i new yorkesi avevano ancora per un duo che fondamentalmente si era sciolto da 11 anni il vinile allora ragazzi chi è interessato a una copia in vinile sappiate che è là uno dei vinili più belli e più a buon mercato che potete trovare intanto le stampe anche le originali si trovano veramente a prezzi risori perché ce ne sono state talmente tante che non farete fatica a trovarne una ben conservata è un doppio album ovviamente un doppio vinile e che vi costerà pochissimo io questa l'ho presa diversi anni fa ma penso di averla pagata da un venditore inglese tipo 2 sterline 99 una cosa del genere e si sente benissimo il concerto è stato ben registrato si sente bene quindi andate tranquilli poi c'è il cd c'è lo streaming come al solito vi ripeto scegliete voi il mezzo ma ve lo godrete in qualunque mezzo ovviamente è un concerto questo concerto fu filmato da HBO questa famosa televisione americana e quindi trovate questo concerto in edizioni ovviamente vecchie VHS videocassette ma anche in DVD e c'è una curiosità su questo ma ve lo dico dopo per la curiosità su questo disco sappiate che la versione in VHS o DVD contiene un paio due o tre tracce in più che non sono entrate fisicamente come lunghezza diciamo temporale nel disco una di queste tracce è The Late Grid Johnny Ace che è una canzone che ha questa particolarità nel mentre loro la stavano suonando sul palco a un certo punto irrompe sul palco un fan tra l'altro ha il grido di Paul Simon devo parlarti chissà che gli voleva dire ovviamente viene subito bloccato dalla sicurezza e c'è una cosa che fa venire anche un po' un brivido perché in questa canzone Johnny Ace c'è anche ci sono dei vari riferimenti tra cui a John F. Gerard Kennedy ma anche a John Lennon John Lennon era morto scusate l'anno precedente proprio lì vicino lì vicino Central Park lui stava tornando nella sua casa che era proprio lì su un lato del parco tra l'altro chi ci va oggi può andare a quel memorial che hanno dedicato proprio a John Lennon all'interno di Central Park ed era stato ucciso proprio da un fan quindi pensate insomma il collegamento tra tutte queste cose ecco se non lo sapevate sapevatelo come dicevano in televisione ironicamente un po' di anni fa bene questo è il mio ti consiglio un disco per questa settimana godetevi questo album io spero che dia a voi la stessa felicità brivido che dà a me ogni singola volta che lo ascolto è un album storico è uno dei concerti più belli in assoluto più sinceri in assoluto anche se vi ripeto insomma loro avevano litigato molto anche proprio prima del concerto però quando salgono sul palco scatta la magia ed è una magia irresistibile e bellissima buoni ascolti grazie a tutti